Benvenute e benvenuti nella sala giunta del Comune di Napoli, giornata per me e per noi importante. Tutti hanno parlato, tutti hanno detto tutto e il contrario di tutto. Adesso parla il sindaco eletto nel 2016 dalla maggioranza del popolo napoletano che come sempre in piena autonomia si è assunto delle responsabilità non facili. E ovviamente con il libero pensiero che contraddistingue la nostra città ognuno si farà le sue considerazioni. Una prima sottolineatura, questa decisione è frutto esclusivamente della mia volontà. Mai come questa volta ho ritenuto di decidere in piena autonomia, quindi me ne assumo la responsabilità nel bene e nel male. La prima considerazione la voglio fare per le amiche e gli amici che da oggi non fanno più parte della giunta dei magistris. Mario Calabrese, Nino Daniele e Roberta Gaeta sono stati per sei anni e mezzo nella giunta. Laura Marmorale, e di questo mi dispiace, circa un anno. Sei anni e mezzo sono sei anni e mezzo di vita, perché io sono il primo che arriva e l'ultimo che va via. E anche le assessori e gli assessori hanno condiviso con me momenti belli, momenti difficili, momenti di gioia, momenti intimi, momenti spirituali, politici. Quindi per me sono amici, indipendentemente dalle considerazioni che ognuno di loro farà, perché le amarezze e le sofferenze fanno anche parte dell'animo umano. Ma io, per me non cambia il giudizio di valore. Confermato e ringrazio, ringrazio con molta sincerità, tutte le persone che in questi giorni mi hanno fatto avere attestati di amicizia e di solidarietà per gli assessori. Perché vuol dire che avevo scelto bene. Siccome in questa città sembra che è sempre colpa del sindaco, anche ex posto ho capito che avevo scelto bene. E quindi questa non è una bocciatura, sia ben chiaro. Chi è andato via non è stato bocciato, non è stato considerato inadeguato, non è un giudizio di disvalore del lavoro fatto. Io sono onorato della giunta che ho avuto finora e le scelte che mi hanno portato qua sono di altro tipo e su questo ovviamente mi soffermerò dopo. Quindi una valutazione di gratitudine, ovviamente il mio auspicio. Io ho avuto tra sabato e domenica tanti confronti con queste persone, ho parlato a lungo. Scusate signora, mettete però di là perché se no ci distraiamo, il momento è delicato. Poi facciamo noi, non vi preoccupate. Acqua bene comune, acqua pubblica, unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica. Io lo ricordo sempre perché spero che qualcuno si associ a noi. Io ho avuto un lungo colloquio con ognuno di loro e il mio auspicio è che possano rimanere in questa squadra. La nostra esperienza è caratterizzata e deve essere caratterizzata sempre di più non dall'esistenza di un leader e basta. Siamo una squadra e come nelle grandi squadre bisogna essere pronti certe volte anche a fare un passo di lato, un passo avanti, qualche volta anche un passo indietro. Vorrei citare anche i casi di alcuni assessori, ma voglio citare uno solo, se no diventa troppo lunga la conferenza stampa e voglio andare per titoli e non essere molto prolissimo. Salvatore Palma. Salvatore Palma non fu bocciato quando andò via, fu una valutazione politica che fece. Salvatore Palma oggi fa l'amministratore di Napoli Servizi. Me ne potrei citare un altro, il nostro straniero, Enrico Panini. Enrico Panini una notte all'una era fuori dalla giunta, alle due è stato ripescato, ha avuto l'intelligenza di capire l'opportunità che gli era stato dato, oggi fa il vice sindaco del comune di Napoli. Guardate, questa è un'esperienza che non è catalogabile nei recinti tradizionali della politica. È l'esperienza guidata da un uomo libero che non si fa condizionare da nessuno, fino anche dalle persone a lui più vicine. Io scelgo da solo. Da solo non significa essere solo. Da solo significa ascoltare tutti, ascoltare tutti, non farsi condizionare e assumersi le responsabilità. Credo che la gente mi ha votato per questo ed è molto difficile assumersi queste responsabilità. Poi è chiaro, sono tutti i sindaci, anche sull'allerta meteo, sono tutti gli allenatori del Napoli, questo ci sta, lo sappiamo. Però poi alla fine c'è uno che deve decidere. Gli altri parlano, discutono, danno idee, fanno filosofia, fanno politica, fanno comizi, tutto è importante. Altrimenti non stare qua senza quel pensiero libero. Se non fosse Napoli, io non stare qui. Io sono qui come figlio di Napoli. La città mi ha insegnato ad essere libero, qualche volta anche anticonformista, qualche volta anche andando controcorrente. Un'altra considerazione per me importante. La voglio fare su una vicenda che è intervenuta nel pieno dell'attività di cambiamento e di rigenerazione che stavo mettendo in campo. Ed è la vicenda degli audio. Una vicenda che ha turbato la città, mi ha procurato una profonda amarezza, però è una vicenda che è banalizzata con la giusta calma. Sicuramente oggi il sindaco aveva anche un'altra necessità. Non quello di dimostrare la sua essenza. Perché ai napoletani ho sempre detto mi potete contestare tutto, ma sulla libertà, l'autonomia e l'onestà potete essere tranquilli di aver affidato le chiavi all'uomo giusto. Poi il resto potete non condividere nulla. Quindi oggi è importante che emergesse anche l'apparenza di un'amministrazione che mai ha subito, e il sindaco mai ha subito, alcuna forma di condizionamento. Quelle parole hanno provocato amarezza, quelle parole per come lette ci hanno imposto volutamente di prendere le nette distanze. Però io ho il dovere anche di fare chiarezza su alcune cose. È assolutamente ignobile che ci sia qualcuno che registri conversazioni di natura politica. E' ignobile. Perché quando si sta in circuiti riservati ci si lascia andare certe volte anche alle cose peggiori. Non oso immaginare quante cose abbiano detto su di me, quante cose possano dire su chiunque ricopre incarichi pubblici. E' un'operazione in fingarda, come altre in fingarde ne sono accadute in questi giorni. Tante, molto strane, molto scure, che poi vanno a culminare anche, ma questa è una coincidenza, con la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione, che invece di dare solidarietà al sindaco per quella vicenda e poi magari presentare una mozione di sfiducia perché sono il sindaco più incapace d'Italia, hanno approfittato di una brutta vicenda per cercare di far cadere in questo modo il sindaco democraticamente eletto, ma non ci riusciranno. Io ho il dovere però di testimoniare una cosa. Quelle parole mi hanno amareggiato. L'idea che qualcuno abbia pensato di logorarmi non può che sapere che io più cercano di logorarmi più mi carico. Questa è una cosa che mai nessuno ha capito. Se volete inderbolirmi la cosa migliore sarebbe essere indifferenti nei miei confronti. Questo mai nessun avversario politico l'ha capito. Non lo so perché. Sarà forse una mancanza di intuito. Non lo so. L'idea che qualcuno avesse pensato di organizzare il 24 febbraio, il 25 febbraio. Parole amare. Però io ho il dovere di sottolineare in questo giorno che in questi anni quelle stesse persone mai hanno fatto mancare nei momenti decisivi il sostegno alla vita amministrativa del sindaco Luigi De Magistris e mai mi hanno chiesto cose che non mi potevano chiedere. Quindi parole gravi alle quali si devono sostituire fatti concludenti. Non può essere il sindaco che in questo momento cancella quella pagina. Devono essere altri di dimostrare che quella è una pagina che non ha nulla a che fare innanzitutto con la storia di quelle persone che l'hanno pronunciato. Ma sicuramente il sindaco è disposto anche ad andare a casa. Perché io non ho vinto un concorso pubblico. E qua nessuno vince il concorso pubblico. In quest'area o da parte di qualcuno di funerale non mi piace. Questo è un momento di gioia per quanto mi riguarda. Se io sto qua è perché è un momento di gioia, di rigenerazione politica e non stiamo proclamando il funerale a nessuno. Abbiamo, passa un altro momento dell'amministrazione. Quindi io sono certo che il 22 di novembre, anno del Signore 2019, giorno in cui sarà discussa la mozione di sfiducia dell'opposizione compatta, la maggioranza darà la prova di che cosa conta in questa città. Un sindaco democraticamente eletto, consiglieri eletti, il diritto di essere valutati alla fine del proprio mandato o cont'altro. Lo capiremo. Se cont'altro vuol dire che andremo a casa perché questa esperienza evidentemente dà fastidio a un sistema che in questi giorni, vedo, si è messo molto in movimento. Loro si muovono, noi ci muoviamo ancora di più. Veniamo poi al momento più importante del perché ho scelto di cambiare. Stiamo in una fase molto importante, molto delicata. non è l'inizio di un mandato amministrativo, non è l'inizio del secondo mandato quando il sindaco è stato nuovamente eletto. Stiamo a cinque mesi dalle elezioni regionali, ma soprattutto, consentitemelo di dire, stiamo a poco più di un anno alla fine dell'esperienza di Luigi De Magistris alla guida della città di Napoli. Io guardo sempre avanti e ho sempre cercato di guardare ai bambini, ai giovani, ai ragazzi e al futuro. Io in questo momento non mi interessa Luigi De Magistris, non mi interessa di portare a casa solamente il maggior numero di risultati possibili e l'interesse ai napoletani, mi interessa che dopo di me non venga qui un prestanome di Salvini o un prestanome di Vincenzo De Luca. Io voglio che dopo di me ci sia un'esperienza che continua, una squadra fatta di donne e uomini e consentitemelo di dire, senza che nessuno ci rimanga male, perché io ho 52 anni e non sono un giovane, soprattutto giovani. Ho sempre detto che questa è la città d'Europa con il maggior numero di bambini e giovani, a me piace dare opportunità ai giovani. E' una scelta rischiosa quella di oggi, di più, di più. Perché se leggo in questi giorni sembra che le politiche sociali che fino a poco tempo fa tutti dicevano che erano un disastro, adesso il sindaco praticamente sta cancellando le politiche sociali. Che la cultura in questa città sia solamente Nino Daniele. Tutte cose giuste, sono persone della mia squadra, non vince solo Maradona se non tenevi il resto dei giocatori. Però vorrei ricordare a tutti questi signori che se i risultati si raggiungono è merito di una squadra, ma che c'è un sindaco che sta sul pezzo H24, se non H26. E quando c'è un errore me lo so caricato sempre io, così come giustamente me lo caricano i cittadini. Dallo sciacquone di casa che non funziona all'allerta meteo, alla buca, ai disastri del paese. E colpa del sindaco va bene. Quindi oggi noi facciamo una scelta che guarda soprattutto all'ossigeno di cui questa amministrazione aveva bisogno. Lo voglio dire, perché l'ho detto anche in giunta, c'era un momento di stanca. È fisiologico. Dopo otto anni e mezzo, otto anni e mezzo, può venire un momento di stanca. A me non è venuto, ma io l'ho notata. Stanca significa anche mettere il pilota automatico e pensare che tutto comunque va indipendentemente. Non è così. Perché devi motivare i lavoratori, devi motivare i dipendenti, devi motivare le partecipate, i dirigenti, i funzionari. Ti devi motivare tu stesso. Quindi oggi ossigeno anche per chi rimane. Non ci sono stati i promossi e i bocciati. Anche chi rimane a questo tavolo sa che io negli ultimi tempi non sono soddisfatto. Non sono soddisfatto, ma non perché non abbiamo raggiunto risultati straordinari, perché io voglio di più. Voglio di più. È una canzone anche di Pino Daniele. Io voglio di più. Cioè questa città sta raggiungendo dei livelli talmente alti che non ci possiamo accontentare. Quindi su questo ci voleva energia. E a loro ho pensato di puntare soprattutto su giovani, su donne, e consentitemelo in questo momento particolare su gente che si è comunque confrontata con la popolazione, con gli abitanti, con i napoletani, con il voto, quindi persone in grado anche di comprendere le saettelle di questa città. Perché c'è una differenza tra l'eletto e il nominato. È più semplice per un sindaco fare i nominati. Scegli i tecnici, scegli i professionisti, scegli i professori, i architetti, e l'ho fatto. Oggi io ho pensato di cui mi assumo la responsabilità di volere una giunta con un'elevata capacità tecnico-amministrativa ma con quella iniezione di politica sui territori di gente che è in grado di guardare ancora di più nel cuore, nel corpo, nello spirito e negli occhi della gente. Le persone che oggi entrano si sono confrontate, sono state persone elette e non mi venite a raccontare che uno spostamento a sinistra della giunta e con la solita storia il sindaco dei centri sociali non sarei mai stato eletto due volte e non avrei mai eletto di fronte allo tsunami se non avessi preso tanto i voti degli anarchici quanto i voti degli industriali. Questa cosa caricatemela a me perché più a sinistra di me probabilmente non c'è nessuno. Probabilmente. In Italia in questo momento non c'è nessuno. Ho mai parlato di sinistra? No. Perché chi ha parlato di sinistra in questi anni l'ha anche distrutta la sinistra. giudicateci per quello che facciamo. Per favore non giudicate queste quattro persone che entrano dal bollino che hanno in testa. Perché qua già leggo tutto il contrario di tutti. Che Leonora De Maio viene per distruggere quello che ha fatto Nino Daniele e quell'altro entra per fare quell'altro. Non è rispettoso. Non è rispettoso. Non è rispettoso nei confronti di donne e uomini che devono essere valutate alla fine del loro lavoro. Come oggi abbiamo valutato bene Roberta Gaeta Mario Calabrese Nino Daniele e Laura Marmorale. Mi dispiace per Laura. Mi dispiace per Laura. Voglio rassicurare tutte le persone le associazioni da Alex Zanodelli che mi ha mandato il video e da altri. Non vi preoccupate. La scelta che ho fatto va a consolidare e a rafforzare quello che è stato fatto. Perché sono scelte che ho fatto io. Adesso sembra che Laura Marmorale l'ha indicata qualcuno e poi il sindaco ha fatto le purazioni. Ma guardate leggo delle cose veramente che sono surreale. Oggi noi stiamo rafforzando e consolidando e allargando. Consentitemelo. Qualcuno ha detto che questa era la giunta solipsistica che qua esiste solo DEMA che qua esiste solo il sindaco che decide. penso che oggi abbiamo fatto una scelta coraggiosa una scelta coraggiosa nel fare entrare in giunta un componente fino a poco tempo fa dell'opposizione che ha fatto la campagna elettorale non contro il sindaco abbiamo fatto campagna elettorale su posizioni diverse anche spesso su valori identici ma su fronti contrapposti come Francesca Mello. Significa che io sto guardando sempre oltre i nostri confini che già non abbiamo. È rischioso. con Francesca non è che ci siamo detti abbiamo firmato un contratto abbiamo fatto un patto di sangue è bello ritrovarsi sui contenuti è bello ritrovarsi sui valori è bello ritrovarsi sui blebattagli qua sta gente che vuole dividere ogni giorno mettere filo spinato mettere mura seminare rancore io ho voluto fare una scelta coraggiosa è coraggiosa è coraggiosa perché so di guardare a un campo che non so come la prende so che avrò a breve un documento a favore ovviamente di Brambilla ma di questo ne sarò contento come dire sarò contento vuol dire che avevo fatto la scelta giusta nel momento in cui c'è una Brambilla che dirà che io non ho capito niente vuol dire che ho fatto bene a chi sto guardando scegliendo Francesca sto facendo l'alleanza con Roberto Figo nessuno ha capito nulla sto facendo l'alleanza con Di Maio nessuno ha capito nulla sto facendo l'alleanza con i Cinque Stelle nessuno ha capito nulla sto guardando a quello spirito che coinvolse anche me dei meet up di gente che stava per strada come stava Dema per strada e come siamo noi per strada gente che sogna c'è gente che crede nel cambiamento che forse ha visto anche dei tradimenti quindi Napoli diventa quel luogo in cui ci si ritrova con il rischio bello rischiare tutto facile quando va tutto bene quindi oggi è una scelta di persone come vedete di cui io stima ho scelto le persone non ho scelto Rosaria perché me l'ha indicato un partito io non so manco Rosaria non ti rimane a male io non so manco tu se tieni delle tesse o non ce l'hai Rosaria è una ragazza che è entrata in Consiglio Comunale ha incominciato a lavorare sui contenuti mi è piaciuto gli interventi che ha fatto Rosario per me Rosario farà bene l'assessore no già qua si pensa che io ho peggiorato l'aggiunto ma che assenza di rispetto è questa qua guardate io ma non per me tanto io sono abituato a tutto il contrario di tutto io vorrei che queste persone insieme ai miei altri miei colleghi che ringrazio perché stanno da anni insomma a me facendo delle battaglie Francesca Luigi Eleonora sono tutti ragazzi per bene persone per bene sono persone che hanno consenso sono persone che amano Napoli e sono persone e quando l'ho incontrati ve la sentite di fare questa cosa ho visto la luce negli occhi l'entusiasmo la passione la voglia di mettersi in gioco la voglia di rischiare la voglia di perdere perché qua è tutto da perdere scusate ma che cosa è da guadagnare ma l'eredità è chiaro che Eleonora sa perfettamente che gli carica un peso addosso di tutto un mondo che oggi sta in lutto perché è andato via Nino Daniele come se la cultura camminava solo Nino Daniele ha fatto un lavoro enorme ma perché l'ha fatto Nino Daniele scusate chi era il sindaco di Napoli quando c'era Nino Daniele l'ha fatto perché ci siamo noi e l'ha fatto bene ma chi può dire che Eleonora non lo faccia meglio lo faccia dal quale o lo faccia magari in modo ancora più conservatore Nino Daniele ma perché io devo guardare altri mondi io devo guardare oltre se io scelgo Eleonora la scelgo perché vorrei che si guardasse anche agli artisti di strada agli operatori della cultura ai giovani che nessuno incontra a un mondo che esiste ma che la gente non vuol vedere insomma io sto guardando oltre se qualcuno l'ha capito bene se qualcuno l'ha capito dateci un anno di tempo e lo capirà perché noi fra un anno saremo ancora più forti e vinceremo anche le prossime elezioni amministrative e questo è un momento decisivo che va in quella direzione si allarga il campo si guarda oltre ovviamente do il benvenuto anche ai nuovi consiglieri comunali anche qua si è detto il tutto e il contrario di tutto tutti bollati giudicati vidimati De Gregorio perché c'è il cognome De Gregorio Colella perché non so Colella Chiara Guida perché Chiara Guida ma adesso fatto di giudicare l'ho detto anche affettosamente ad Alex Alex mi ha detto ma sai da un combattente come te non mi aspettavo la silurazione di Laura Marmorale ho detto caro Alex tu sei un missionario i missionari prima di esprimere una valutazione ascoltano almeno l'incolpato ce l'aspetta un anno se manco che sto facendo potrei mettere un caporom alla guida del comune di Napoli chi lo sa che non accade fra tre mesi ma perché sto giudicando beh comunque ci sta io sono molto carico sono molto entusiasta ringrazio tutti quelli che in questi giorni mi hanno intossicato ringrazio tutti quelli che invece di darmi consigli e pacchi sulla spalla mi hanno iniettato veleno perché hanno misurato la capacità di antidoto del mio corpo io li devo sempre ringraziare perché io certe volte ho la sensazione di non riuscire a farcela fisicamente e psicologicamente invece queste persone che più mi intossicano più mi fanno capire che alla fine il mio corpo è tarato per resistere un'operazione di resilienza che mi porterò fin quando il Padre Eterno lo vorrà poi anche qui vabbè l'ho già detto io ricordo le critiche quando feci delle scelte Roberta Caeta Alessandra Clemente tutti quanti il giovane è qua quella chi è chi la conosce vabbè poi adesso invece la pensano tutti in altro modo ultime brevissime considerazioni poi leggo le deleghe i nomi degli assessori il rendiconto vi pregherei di farlo alla fine quindi mi auguro pure che per questo motivo la mozione venga rigettata noi vorremmo essere valutati alla fine il nostro mandato penso che è un nostro diritto dovere di essere valutati alla fine poi se saremo stati non credibili vuol dire che il prossimo sindaco sarà di un altro schieramento la democrazia la dialettica il confronto fateci lavorare dateci il sostegno criticateci però rispettateci un'ultima considerazione credo di aver dimostrato anche oggi di essere un uomo autonomo e un uomo libero e di questo devo ringraziare la città devo ringraziare le mie elettrici e i miei lettori e devo ringraziare le tante persone che in questi anni mi hanno aiutato sempre di più ad andare avanti per la mia strada io anche in questa decisione ho pensato esclusivamente alla città ho pensato esclusivamente ai napoletani e agli abitanti della nostra città e ho pensato anche al nostro futuro e sono orgoglioso di averla fatta pur tra le amarezze pur tra le difficoltà pur tra il dispiacere di dover lasciare dei compagni di viaggio oggi abbiamo più ossigeno ci serviva questo ossigeno abbiamo più energia io sono convinto che Francesca Menna Rosaria Galliero Donora De Maio e Luigi Felaco entreranno con grande passione e grande entusiasmo ho dato loro delle deleghe difficili dovranno essere aiutate da me innanzitutto e le aiuterò come aiuto gli altri colleghi e come sto sempre sul pezzo quindi come dire mi auguro che anche gli altri assessori ritrovino la giusta energia la giusta rigenerazione è un momento importante e quindi da questo punto di vista faccio anche un appello davvero a tutta la città ad affrontare nel giusto modo questo momento di transizione che è un momento di rigenerazione e di energia e non è un momento funereo alla maggioranza di ritrovare le ragioni di quella unità pur tra le differenze necessarie per andare avanti e al Consiglio Comunale intero all'opposizione di criticarmi sui fatti criticarmi sui contenuti però evitare come sta accadendo in questi giorni di ulteriormente intossicare il clima quindi davvero grazie a voi che avete scelto perché io vi devo ringraziare a voi perché non è facile ringrazio soprattutto Francesca perché non fa parte come dire della nostra iniziale coalizione maggioranza che ha condiviso con me questo progetto su cui ci vogliamo lanciare tutti quanti insieme quindi la voglio davvero ringraziare perché guardate non è scontato questo è un altro sicuro nessuno parla e poi davvero chiudo non è facile accettare c'è un invito a fare l'assessore perché l'assessore è complicato si entra qua non puoi assumere uno staff magari non hai soldi adeguati hai tanti problemi eppure in queste persone ho percepito voglia di fare coraggio autonomia non hanno chiesto nulla io non ho chiesto nulla energia proprio da persone che in questo momento di cui avevo bisogno persone anche fresche per far fiatare un pochino evidentemente tutta la squadra allora come la prima novità io non mi tengo nemmeno una delega perché vado per tre mesi in vacanza e quindi lascio la giunta a lavorare no non mi tengo nemmeno una delega perché mi voglio occupare un po' di tutto con maggiore tranquillità senza appesantimenti amministrativi e allora chiudo questo mio intervento per poi dare la parola a un intervento sintetico degli entranti Enrico Panini Vice sindaco con delega a bilancio programmazione economica tributi lotta all'evasione personale rapporti con il Consiglio Comunale cimiteri trasporto pubblico locale viabilità pubblicità e pubblica affissioni direzione coordinamento e controllo delle società partecipate di concerto con gli assessori competenti nei rispettivi settori Ciro Borrello assessore allo sport con delega sport impianti sportivi pubblica illuminazione sicurezza abitativa coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza Monica Buonanno assessore alle politiche sociali e al lavoro con delega lavoro reti di partenariato politiche sociali politiche per minori e famiglie diritto all'abitare politiche per la casa immigrazione politiche di integrazione dei migranti tratta contrasto alle povertà città solidale della fratellanza solidarietà popolare diritti di cittadinanza coesione sociale sviluppo delle città finanziamenti europei informatizzazione coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenze Alessandra Clemente assessora al patrimonio ai lavori pubblici ai giovani con delega patrimonio lavori pubblici infrastrutture parcheggi strade suolo e sottosuolo giovani start up innovazione polizia municipale sicurezza urbana mobilità sostenibile autoparchi toponomastica coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenze Eleonora De Maio assessora alla cultura e al turismo con delega a cultura turismo biblioteche archivi cooperazione decentrata relazioni internazionali Raffaele Del Giudice assessore all'ambiente con delega a ambiente rifiuti lotta ai cambiamenti climatici ossigeno bene comune sviluppo sostenibile acqua pubblica ciclo integrato delle acque coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenze Luigi Felaco assessore al verde con delega verde qualità della vita decoro e arredo urbano politiche di contrasto al degrado creatività urbana beni confiscati agricoltura urbana coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenze Rosaria Galliero assessore al commercio ai mercati e alle attività produttive con delega a attività produttive commercio mercati protezione civile gruppi volontari civici rapporti con le municipalità politiche energetiche smart city avvocatura centro unico per gli acquisti statistica censimenti anagrafe stato civile servizio elettorale protocollo coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza Lucia Francesca Menna assessore alle pari opportunità libertà civili e alla salute con delega pari opportunità centri antiviolenza politiche di contrasto alle violenze di genere diritti civili e libertà civili diritto alla salute sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari tutela degli animali mare diritto alla pace coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza Anna Maria Palmieri assessore all'istruzione alla scuola con deleghe a istruzione scuola silinito edilizia scolastica diritto allo studio lotta alla dispersione scolastica coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza Carmine Episcopo assessore ai beni comuni all'urbanistica con deleghe a beni comuni spazio pubblico e rigenerazione urbana urbanistica edilizia pubblica edilizia privata antiabusivismo edilizio condono edilizio coordinamento grandi progetti centro storico unesco metropolitana porto autonomia della città coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza più tardi sarà pubblicato il decreto con le motivazioni che sarà consegnato a tutti i giornalisti ai cittadini che vorranno vederlo sul sito del comune il mio intervento è concluso do la parola Eleonora Di Maio Francesca Menna Luigi Felaco Rosario Galiero quindi comincia Eleonora e finisce Rosaria grazie